Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Lo scopo di questo video è quello di andarvi a spiegare come realizzare uno Stock Screener con Python. Per Stock Screener non intendiamo altro che uno strumento che ci permette di avere un report che riassuma i principali indicatori di analisi tecnica e analisi fondamentale. Poi andremo a impostare delle regole che naturalmente saranno personalizzabili sulla base degli indicatori che voi stessi preferite. Io naturalmente vi porrò un esempio che utilizzo io e a partire da queste regole naturalmente vi verrà estratto un report che sarà salvato in formato CSV quindi sarà possibile aprirlo con Excel o comunque altri strumenti simili per andare a eseguire altri eventuali approfondimenti come vedremo magari utilizzando anche gli stessi strumenti che vanno a indicare i supporti, le resistenze, le medie mobili che sono già stati realizzati nel corso dei video precedenti. Io quindi non vi roberei altro tempo, andiamo a vedere direttamente su Upyther Notebook come è stato realizzato questo codice. Grazie a tutti, ciao! Bene amici, ho già configurato l'ambiente, se volete sapere come si fa a configurare l'ambiente virtuale di Python vi rimando a un video precedente che ho già illustrato e che sarà comunque la base di tutti i vari tutorial che andrò a illustrare da qui in avanti. Quindi abbiamo l'ambiente di Python configurato e andiamo a lanciare lo Upyther Notebook. Va bene, allora i file che andremo a prendere in esame sono lo Stock Screener e poi lo Stock Report che è la libreria che ho scritto e andremo ad analizzare velocemente il codice. In questo caso vado a cancellarvi tutto l'output così lo eseguiamo per la prima volta. Allora vabbè, prima cella va semplicemente a importare le librerie. La seconda invece è già più interessante perché cosa fa? Va a inizializzare la classe della libreria che si chiama appunto Stocks Report che va inizializzata con un file di tipo CSV. Questo file, in questo caso è il seguente, non è nient'altro che una lista formattata appunto in CSV e che può essere, volendo, aperta con un Excel ad esempio. Vediamo se riesco a farvelo in diretta. In questo caso lo vado ad aprire con Numbers, però vedete che quando lo aprite con un processore come Numbers o Excel ve lo va a formattare in questo modo. Non è nient'altro che un elenco di azienda con i rispettivi ticker e il nome dell'azienda ed eventualmente il settore. Questa è tutta la composition dello Standard & Poor's 500. E alla fine ho aggiunto anche dei ticker che interessa a me tracciare. Potrebbe essere Enel, piuttosto che ci dovrebbe essere Bitcoin, Ethereum, Alibaba, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Una volta che noi andiamo a importare il file andiamo a inizializzare la nostra classe. E vediamo cosa succede. Quello che state vedendo è che la libreria si sta scorrendo a uno a uno i titoli in elenco e sta scaricando i dati per andare a elaborarli. Intanto che lo fa, ci possiamo spostare nella libreria per vedere come è scritta. Come potete vedere non è nient'altro che una classe. Qui vedete che viene inizializzata con lo stocks path. Quindi dovete indicare qual è appunto il path per raggiungere il file con l'elenco dei ticker ed è importante che quel file sia formattato esattamente come ve l'ho fornito proprio perché da quell'elenco viene estratta la colonna con i simboli ovvero questa qua, quella tutta di sinistra proprio perché è questa che deve essere passata a UO Finance per andare a estrarre i dati storici. E poi viene richiamato lo start job. Lo start job non crea praticamente un data frame, cioè una tabella di reportistica con tutti i ticker appena elencati e aggiornati. Quindi vedete in questa riga in realtà viene richiamato un metodo che è get data from UO Finance. Questo viene fatto naturalmente per ogni ticker nella lista. Questo metodo qui non fa altro che andare a scaricare i dati per quel ticker però non scarica semplicemente i dati ma li passa a un'altra libreria che in questo caso è la technical analysis, libreria dove vengono passati tutti i dati di chiusura, high, low, close, volume per andare a generare tutti gli indicatori possibili che sono appunto esposti da quella particolare libreria che appunto si chiama TA inoltre a partire dai dati storici viene generata la media 21, la media 50, la media mobile a 200 e poi anche un indicatore di volatilità degli ultimi 200 giorni. una volta che questi dati vengono elaborati viene ritornato appunto il data frame e naturalmente quello che fa il metodo start job non è inoltrare tutti i dati storici del ticker preso in esame ma appunto è generare per ogni ticker una riga di reportistica dedicata dove i dati vengono schiacciati e elaborati sarà più chiaro vederlo appena il metodo ha finito di elaborare come potete vedere è necessario un po' di tempo proprio perché la lista comprende più di 500 titoli in questo caso perfetto quindi l'elaborazione dei dati è stata completata in questo caso stampo tutte le colonne che sono state generate nel report e potete vedere che la lista degli indicatori è notevole e non li conosco neanche tutti sinceramente però possiamo vedere abbiamo l'RSI lo stocastico sull'RSI abbiamo il MACD abbiamo la TR abbiamo la DX abbiamo tutta una serie di indicatori l'OBV sui volumi e questi qua sono invece la volatility l'MA200, l'MA50 e l'MA200 sono quelli che ho aggiunto io manualmente nonché poi la data di ultimo aggiornamento del nostro report OpenAI, Low, Close questi sono quelli semplicemente andati estratti da EO Finance poi naturalmente vi invito voi stessi a fare delle ricerche nel caso voleste approfondire uno di questi indicatori particolari da questa cella è possibile andare a osservare il punto dove vengono effettivamente applicate le logiche di filtro sui dati che abbiamo appena estratto ed elaborato in questo caso il filtro che ho posto io è per cercare di identificare un trend bullish cioè quindi una lista di azioni che abbiano un trend bullish quindi io vado a dire voglio un trend di un indicatore di ADX che sia inferiore a 15 la media a 21 deve essere maggiore della media a 50 e la media a 50 maggiore della media a 200 è un RSI sotto il 60 come punteggio quindi in questo caso se vado a eseguire vedete lui mi ha identificato 37 possibili asset tolgo il LEN e vi faccio vedere un po' come è strutturata una colonna di filter e qui potete vedere l'elenco dei 37 asset identificati e vedete che è una colonna, è una tabella abbastanza grande perché comunque è 93 colonne quindi è di difficile lettura quello che viene fatto ah sì prima di andare a scremare le colonne con quelle che ci interessano esiste un'altra istruzione che va a richiamare la mia libreria che è la ADFUNDAMENTALDATA e viene applicata su questa tabella qui sopra quindi andiamo a eseguirla intanto perché richiede un po' di tempo qui vedete sta lavorando torniamo velocemente alla libreria l'ADFUNDAMENTALDATA non fa altro che andare sempre a richiamare Yahoo Finance però in questo caso non va più a richiamare indicatori di tipo tecnico ma va a richiamare indicatori di tipo fondamentale quindi ad esempio ci interesserà sapere qual è il price of earning la market cap, qual è il earning per share di quell'azione il book value, il price to book e il pay ratio anche in questo caso vi invito a, nel caso non lo sappiate andare a cercare uno per uno questi indicatori su Investopedia viene riportato bene qual è la loro utilità e cosa indicano quindi in questo caso per ognuno delle righe selezionate vengono estratti anche questi ratio di natura fondamentale quindi una volta che sono stati appunto scaricati i ratio delle aziende selezionate queste nuove colonne vengono aggiunte nel data frame precedente generandone in un nuovo in questo caso potete vedere il nuovo data frame generato quindi con i dati che ci interessano naturalmente possono essere personalizzati basta aggiungere in questa field found le colonne che più ci interessano nel mio caso ho aggiunto la percentuale di volatilità rispetto al prezzo l'RSI, la DX e poi tutti i vari indicatori a ratio fondamentali in questo caso vedete diversi NAN significa not a number perché probabilmente per quel particolare asset Yahoo Finance non disponeva dei dati necessari una volta che questo report è stato prodotto può essere esportato tranquillamente in un nuovo file CSV e quindi in un report che si può consultare anche diversamente ecco qua, lo vediamo qui qui semplicemente ho aggiunto la data e vedete esattamente la stessa tabella che si può aprire con un software simile Excel e quindi andarlo a manipolare ad esempio in questo modo per andare a ordinare i diversi peg ratio sappiamo che un peg ratio è tanto più bullish quanto più tende a zero quindi in questo caso possiamo andare a verificare i dati per questo ticker vediamo che il trailing di price of the earning non è particolarmente favorevole e possiamo analizzare questo MTB ad esempio quindi torniamo in uno script che ho presentato precedentemente questo qua automatic trend and support resistance e ci possiamo mettere MTB come asset da analizzare scusate devo importare la libreria e andiamo a eseguire e andiamo a eseguire tutte le celle in questo caso vediamo il trend a partire da da ottobre e vediamo che è un trend tendenzialmente bullish e con il prezzo molto probabilmente in fase di accumulazione vedete qua abbiamo un indicatore grafico di come evolve la DX e la RSI e quindi si può eventualmente procedere con ulteriori analisi per valutare o meno l'acquisto di questo titolo ad esempio possiamo andare su MTB Yahoo Finance e appunto avere un'idea degli earnings un'idea sulle revenue e poi eventualmente andare più in dettaglio sul balance sheet piuttosto che sull'income statement e valutare appunto l'acquisto di questo tipo di asset o di azione va bene con questo video è tutto spero di esservi stato utile fatemi sapere se ci sono dei passaggi che vi sarebbe utile vedere trattato in modo più specifico e come sempre sono a vostra disposizione grazie a tutti ciao da Valerio